Sì, non è fatti, non è fatti. Buongiorno. Ciao Anzania. Una scoperta straordinaria, siamo nel termopolio della Reggio Quinta, si era iniziato a scavare due anni fa, avevamo intercettato solo un lato del bancone, tra l'altro molto bello, con una nereide che cavalcava un cavallo marino, credo in omaggio alla fontana antistante, perché questo termopolio si apre su una piazzetta, devo dire, fra le più suggestive di Pompei, dove c'è una fontana, c'è una torre piezometrica, c'è una cisterna, ma ci sono anche altre strutture, un altro termopolio da qui vicino, dove vengono i famosi gladiatori. Grazie. 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 Se si fa un lavoro di squadra, ognuno fa la propria parte bene, l'Italia può costruire delle storie di riscatto fantastiche, quindi ci sono centinaia di siti archeologici, di luoghi dell'Italia minore, che nel mondo sono grandi attrattori, potrebbero essere attrattori di turismo culturale di milioni di persone. Grazie. 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 Grazie.